Benvenuti amici, io sono Salopimpos e oggi torniamo su Boost Simulator Mi avete detto in tanti di riportarlo ed eccoci al secondo episodio Allora, nel frattempo è stato aggiornato, quindi risolto il problema di traffico Effettivamente mi venivano addosso come non so che cosa I prezzi dei terminali sono stati ridotti, in che senso terminali? Prezzi dei terminali? Vabbè, l'importante è che siano stati ridotti, poi vediamo Sono state fatte disposizioni grafiche, in che senso? Vabbè Sono state apportate molte correzioni di errori Non ci è dato sapere quale, va bene, chiudi Allora, l'ultima volta ci siamo fatti un tragitto Ovvero Bologna, qual era? Era itinerario scegliere? Qual era? Era Bologna-Torino, c'è solo questo Perché purtroppo le città costano come non so che cosa Allora, vediamo un po' se effettivamente i terminali sono questi Terminale, eccolo qua, il terminale Ecco, magari sono state ridotte, è stato ridotto il prezzo delle città 10, questione a scegliere Italia, città 47.000 Ma dov'è sta riduzione? Scusami Una città? Palermo mi costa 48.000 euro Sbloccarla? Vabbè, niente, per adesso non abbiamo niente da fare Ci tocca affrontare sempre la stessa città per adesso Va bene Creazione dell'ufficio Niente, non abbiamo soldi Va bene, per ora non abbiamo soldi Quindi ce ne facciamo una ragione Andiamo nel garage Perché ho acquistato il wifi Finalmente Visto che volevano il wifi a bordo i miei passeggeri Allora, ho acquistato wifi E dopodiché ho acquistato il multimedia Quindi il televisore è bello, touch Così non si lamenta nessuno Abbiamo ottenuto pure due stemmi qua Quindi wifi e zona multimediale a bordo Adesso però il biglietto lo farò pagare come se non ci fossero domani Quindi sappiatelo cari miei passeggeri Va bene Qua possiamo personalizzarci il bus Ma non ho sbloccato niente È tutto da sbloccare praticamente Niente, andiamoci a fare questo itinerario Andiamo a selezionare il solito itinerario Non abbiamo niente per adesso Quindi possiamo solamente fare Torino L'altro lato ho fatto Bologna-Torino, giusto? E quindi adesso facciamo Torino-Bologna Niente, partiamo da Torino E arriviamo a Bologna Purtroppo c'è da fare solo questo Partiamo presto Partiamo presto Partiamo Ecco, possiamo partire solo di giorno però Alle 4 del pomeriggio Ma di mattina si fanno i viaggi Di mattina si fanno i viaggi Partiamo alle 4 del pomeriggio E dai Va bene Va bene così? Allora, itinerario Accetta Va bene Costo del bil... No, dovete darmi almeno 30 euro Wi-Fi e schermo 35, va Dovete pagarlo il servizio Ristorazione Allora Mettiamo i toast Possiamo selezionare fino a 4 elementi L'altra volta ne ho selezionato solo uno Allora, toast Patatine Ciambelle e popcorn E dai E chi più ne ha più ne metta E accontentateli E c'è Io pago 60 euro di ristorazione Per 35 euro di biglietto Vediamo Speriamo che abbiamo abbastanza passeggeri Accetta Va Vediamo Proprietà della campagna Solo io per adesso Perché dobbiamo assumere un po' di personale Eeeh 100... Ok Ne abbiamo 3 per adesso 3? Dove fare un mio viaggio con 4? Oh Cercate di salire Oh Ho comprato il Wi-Fi Ho comprato Ho comprato pure il Multimedia Cercate di approfittarne Perché le altre società non vi danno niente Non hanno qualità Mamma mia 17 persone Ma che schifo Altri due almeno Niente 17 persone Ma perché Che caro il biglietto 35 euro Sì Sto facendo un viaggio di 2 ore Qua per 17 persone Ma che schifo Allora In molti Avete detto che il cibo si serviva da qua Perfetto Accendiamo qua il Multimedia Accendiamo il Climatizzatore Forza Accendiamo tutto Allora Poi c'è altro Qua no Va bene così Allora Rechiamoci Rechiamoci Io qua la visuale non la vedo Accendiamo il motore Piccolo problema tecnico Il pulsante della visuale Mi va ad intersecare Praticamente nella telecamera Nella fotocamera Che facciamo? Premo lo stesso Però sto cliccando sulla fotocamera Praticamente Vabbè Pazienza Ma così Così Abbiamo visto che quella Dall'interno Era più bella Ah va veloce Con sta visuale Oh Il navigatore Purtroppo è piccolissimo Qualcuno mi ha detto Che potevo regolare Ah così posso guardarmi Ok Posso regolarmi L'altezza Del sedile Come però Ah da qua Posso regolarmi Ah ok Perfetto Posso Adesso si Perfetto Adesso ce l'abbiamo più grande Effettivamente Ora si Ora si E invece questo Ah ok Dall'alto in basso Va bene così Va Va bene così Così vediamo il navigatore Oh Eeeh Qua se le cose non le utilizziamo È normale Che poi Ingrami la prima Ok Possiamo Però non vedo lo specchietto Così non vedo lo specchietto Calmi un attimo Non vediamo lo specchietto Dobbiamo alzarci un po' il viso Però così non vedo E che facciamo Ho il navigatore O lo specchietto Possibilmente tutti e due Va bene così Dai Un po' Un metà e metà Non è che posso Saltarmi lo specchietto qua Va bene così Fì di questo Un po' Non so Non sappiamo fare Va bene Vado a parcheggiarmi Va Per cortesia Cercate di salire Dov'è qua La mia posizione però La mettete sempre troppo lontano Cercate di avvicinarla Ok Eccomi Eccomi Parcheggiato sempre con lusso Perfetto Apriamo le portiere Bagagliaio E portiere Avanti Entrate Entrate e pagate tanti biglietti Per cortesia Perché ho comprato Delle cose di lusso Io qua Avete wifi Multimedia Bodo Ma che cercate Di più dalla vita Non andate in quello Perché 17 Che schifo Devo farmi un viaggio Con 17 persone Niente Andiamo va Va bene Marcia indietro Marcia indietro E' avviato il motore No Vado avviare Adesso si Va bene E devo rispostarmi a visuale Dai Allora Via Devo rispostarmi a visuale Allora Andiamo qua Marcia avanti Visuale Visuale Così pure è bello Allora Però non vediamo Il navigatore è lì Sta visuale effettivamente E' pure carino Però non abbiamo Lo specchietto Vabbè niente Ho capito Mettiamo questo Via Possiamo partire In viaggio Vai Le porte sono chiuse No Portiamo chiudo Chiudiamo tutto Che qua Perdiamo i bagagli Dov'è l'uscita Mi sono perso l'uscita Ok vado dritto Vado dritto In per te Chi è? I biglietti erano cari E che cacchio vuoi Della mia vita Vi ho comprato le cose Perché vi lamentate sempre Che i biglietti erano cari Ma che li volete Gratis? Ma non lo so io Vi ho comprato il wifi Vi ho comprato il coso multimediale E sempre che vi lamentate E dai E su Mettiamo la freccia E giriamo di qua Quanto meno adesso Vediamo il navigatore Ok via Andiamo Non vi lamentate Nella vita Niente 35 RF Dove è che sto andando? 35 Che è? Forse l'autobus Non è super confortevole Ma va bene Pure Pure Vi lamentate il biglietto costoso Se volete pure Gli interni in pelle Secondo me Vero? Non sono mai contenti Non so Evitiamo di schiantarci Contro gli altri bus qua Non siete mai contenti Nella vita E che è? E datemi una regolata Datemi Forse 30 euro Effettivamente era meglio Ho messo 35 O 30 euro Credo 35 Ci andiamo le luci Perché qua Diventa notte Così a caso Subito Di colpo Allora Allacciate le cinture Le avete messe le cinture Siamo sempre al vostro servizio Allora la partenza è arrivata Allacciate le cinture Forza Ma clicca però Ok Vai Andiamo Ma perché si sente basso L'ho qui qua Lo sento io basso No ho passato il volume Delle cuffie Ok Niente Forza Veloci Veloci Siamo dritti Giusto Siamo perfetti Non avete fame Donna Non mi dite che avete fame Perché siamo partiti ora E non mi fermo Non mi fermo I panini ce li abbiamo Quindi casomai Vi do i panini E le patatine Non ci fermiamo Perché Ah il problema è che c'è pure la benzina A tenere in considerazione Niente Mi sono spediti come dei fulmini Veloci Perché non voglio stare qui tutta la vita Con voi che vi lamentate Del mio servizio Io offro tutto Io offro questo Se non vi piace Me ne andate a piedi Non in bicicletta Qua c'è un'area di sosta Questa è l'area di sosta Che Pensavo che avrebbe offerto del cibo Di già Ma stiamo partendo ora Già volete mangiare Ma che siete mister meat E volete il cibo E ve lo do Allora Da qua si serve il cibo Ristorazione Avanti I clienti sono soddisfatti E meno male E meno male E dai Su per ogni 30 secondi Mi chiedete cose Mettiamo la radio In molti mi avete detto Pure che c'è la lista italiana Qua Aspetta che qua mi vado a schiantare Però O seleziono Oppure guido Allora Radio Parti Italia Radio Oh Avanti Ascoltiamo Speriamo non mi dirò copyright Abbassiamo Non ci sa mai Abbassiamo Perché qua il copyright È dietro l'angolo Andiamo Spediti Spediti Stiamo andando a 67 km orari Quanto è il limite qua però Forse sto andando un po' troppo veloce Può essere Ma quando è che parte la radio Quando arriviamo 80 km orari Andiamo Andiamo spediti Come in Formula 1 Ma chi se ne frega Ok qua dobbiamo girare Mettiamo la freccia adesso Mettiamo la freccia adesso Rallentiamo Pian pianino Non ci perdiamo come l'altra volta Altrimenti facciamo casino Oh Freniamo Andiamo a Genova Perfetto Turn right Aspetta che sto girando Navigatore Non avere fretta Ho invaso l'altra corsia Ma stavo andando a tagliare l'erba Gira Gira Che qua tagliamo l'erba Ok Stacchiamo la freccia Vediamo chi arriva Vediamo chi Perché ogni volta Non mi clicca qua Ok via Mettiamo la freccia Non pa- Aia tizio Ma hai visto E sto uscendo Abbio l'accortezza Di darmi un po' di precedenza È la vita Ok ma sta radio Quando è che funziona? Ma forse perché Ho disattivato internet Forse senza internet La radio Almeno Radio Italia Qua non funziona Mettiamo German Radio Qualcosa funzionerà Prima o poi Forse Ricerca Mi sa che devo attivare Internet per la radio Mi sa di sì Perché siamo sempre a 0 mega Qua Vabbè Ce ne faremo una ragione Spegniamo la radio Chi se ne frega Aspetta Dove andare Devo uscire Devo uscire Aspetta Non ho messo la freccia Pazienza Siamo a 71 Benzina Ce l'abbiamo Procediamo Procediamo il viaggio Ok Andiamo di qua Forse Veloce Veloce Ma perché voi avete fatto uscire da qua Se poi Mi sto rimettendo nuovamente in strada Che è successo? Il navigatore è impazzito Mi sta facendo allungare strada Pazienza Niente La radio Aspetta Mettiamo pausa Mettiamo pausa Mettiamo internet Ok Adesso riproviamoci Mettiamo sempre Italy Radio Ok Adesso è partita Aia Ste musiche mi danno copyright ragazzi Abbassiamo No no Cambiamo Cambiamo stazione Che qua non voglio rischiare io Comunque Musica italiana Mettiamo rock FM Mettiamo Aspetta Che è Pure il pedaggio devo pagare Pure E che è Questo non era compreso Però Vi lamentate pure Che pago Che vi faccio pagare 35 euro Ma stiamo scherzando E qua devo pagare pure il pedaggio 20 euro di pedaggio Ma da Ma l'altra volta non l'ho pagato il pedaggio Vi siete arricchiti Musica italiana ragazzi Però Non ce lo possiamo permettere Perché mi censurano qua l'audio Niente Preferisco non metterla Comunque fighissimo La cosa è fighissima Posto di blocco Io sono in regola Ho pagato assicurazione Ho pagato tutto Bollo Auto Tutto ho pagato Tranne i clienti Che qua non mi pagano Sicuramente non vuole Che pagano 35 euro Di biglietto Quanto manca qua Allora 180 chilometri Dobbiamo fare ancora Ha voglia di viaggiare Siamo un po' a corto di benzina Però Mi sa che prima o poi Devo fermarmi Qua c'è una stazione Però possiamo andare Ancora un po' avanti Secondo me Dobbiamo 170 chilometri Non vorrei restare a piedi Non vorrei restare a piedi Ma casomai Niente Fermiamoci va Fermiamoci Dove però Dovevo fermarmi prima Da qua c'è l'uscita E va bene Niente Andiamo avanti Andiamo avanti In perterriti All'avventura Se mi finisce la benzina Sarà un problema Tutto a posto voi Siete al 46% di cibo E direi che va bene Anche perché vi ho servito Ristorazione Serviamo i panini va A posto 70% Buono 69% Oh io non è che vi posso Servire la pasta a forno Giusto Io ho questo Da offrirvi Patatine Popcorn Panini E basta Comunque i clienti Sono soddisfatti Almeno questo Almeno questo 130 chilometri Manca Forza ce la stiamo facendo Però il fatto Che le città Costino così tanto È una rottura di scatole Fatemi sapere Se voi siete riusciti A comprare Tutte le città O quantomeno A comprare Qualche altra città Tipo però Facendo lo stesso Tragitto 10 vo Di nuovo Ancora pedaggio Devo pagare No Ditemi di no È che qua Tutto il guadagno Lo sto spendendo in pedaggio Basta così Apritemi qua Gratis Ah meno male Meno male Meno male Solo una volta E che è Altri 20 dollari Ed erano 40 Tutto il guadagno Lo spendendo in cosi Qua In pedaggio Andiamo Veloce Veloce Ok 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 Siamo a 105 km La benzina Direi che c'è Però non ci basta Per completare il viaggio Quindi alla prossima stazione di servizio Ci fermiamo Assolutamente Altrimenti restiamo a piedi Ci tocca chiamare il carro attrezzi Ok Dobbiamo girare qua Ok Non ci confondiamo Dobbiamo girare Eccomi Eccomi Bologna Sto arrivando Dove sta andando quello Quello procede In strada Che non è un possibile percorrere Va bene La freccia La possiamo staccare Vado Aspetta che Non ci mettiamo troppo rapidamente Va bene Possiamo procedere Forza Stavolta è navigatore Aspetta No Da qua no Abiroso Rosso Chi è E dove ho preso la patente Mi hanno tolto 25 euro Ma perché mi son fermato però E ancora rosso qua Dov'è Che su Mi suonano Bu io passo va E io mi son fermato però Al limite ma mi son fermato Perché mi avete fatto una multa di 25 euro Ma come siete bastardi E dai Mi son fermato un centimetro più avanti Dico Chiudetelo un occhio La prossima volta Mamma mia Avranno fatto un balzo Come se non ci fossero domani Lì Gli miei passeggeri Proprio avranno Avranno sbattuta La testolina Da qualche parte Ecco perché si sono lamentati Peggio per voi Che non mettete le cinture Non è che è colpa mia Io ve l'ho detto Di allacciare le cinture Se voi non lo fate Poi vi succedono Gli sti incidenti Ok Qui c'è un'area di servizio Direi di fermarci Anche se mancano Quaranta Quarantotto chilometri Fermiamoci va Mettiamo un po' di benzina Devo pagare Poi la benzina Devo pagare Con il cibo Niente Fermiamoci Li facciamo mangiare A sti poveri cristiani Allora Ecco Andate a mangiare Va Andate a mangiare Parcheggia qui Eccomi Vi devo aprire il bagagliaio Avanti Se avete bisogno di qualcosa Pensateci adesso Perché poi dobbiamo andare Perché già si sta facendo tardi Non so pagate poco Cioè Si fermano a mangiare Al ristorante Ma Siamo scherzi Ma dov'è che si è visto Mai una cosa del genere Se io affronto un viaggio Giusto Mi fermo a mangiare Al ristorante Lo finisco E basta Poi quando atterro Vado a mangiare Niente Purtroppo qua funziona così Anna Maria Pure un ristorante italiano Sta pure piovento Meglio così Di più ne ha più ne meno La flaccia la possiamo staccare Attiviamo il tergicristallo Avete finito Vi siete riempiti le pancine Adesso siete più pesanti però Consumiamo più benzina Meno male che adesso la facciamo Allora Siete tutti Tutti le 17 No che Ne avete scordato uno lì dentro No Chiudiamo tutto Accendiamo il motore Andiamo indietro Mettiamo la benzina Versare Marcia Prima marcia E mettiamo la benzina Forza E paghiamo pure sta benzina Non mi sta rimanendo niente Niente Praticamente sto spendendo Più di quanto sto guadagnando In questo viaggio Per colpa mia Perché ho messo il biglietto Troppo caro Pazienza Avanti Fate rifornimento Veloci però Veloci Possiamo andare Start Marcia in granata E via E dobbiamo ricambiare la visual Via Veloci Usciamo Pian pianino Perché qua è possibile Che qualcuno Mi rompa le scatole Come si guardava Dal lato sinistro Girati Oh perfetto Sta arrivando una macchina Dopo questa E ce possiamo andare Veloce Veloce Partiamo Veloce Perché arriva qualcun altro E qua diamo precedenza Per sempre Praticamente Ok Non invadiamo le corsie opposte Che stiamo arrivando First Vediamo se ho guadagnato Un po' di più La vedo brutta In questo viaggio Non ho guadagnato niente In questo viaggio Proprio Fra 26 km Arriviamo Perfetto Speriamo Speriamo Di arrivare Va bene Niente Stiamo arrivando Però purtroppo Ho guadagnato Pochissimo Siamo arrivati Aspetta E mettiamo la freccia Mettiamo la freccia L'entrata è Da questa parte Eccomi 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 Turn right Lo so Turn right Lo so Lo so Non mi ricordare Dov'è il mio posto qua Non vi fregate il mio posto Entriamo da qua Come sempre Il mio posto è sempre nascosto Eccolo Eccolo Eccomi Avanti Potete scendere Forse Forse Siete arrivati a destinazione Sane e salvi E già questo dovrebbe farvi Che è Non ho mai viaggiato così Oh Alleluia Finalmente uno che Che dice le cose come sono Però se non apro le porte Come scendono Forse Avanti Finalmente uno che è felice Del mio servizio E dai Su E dai Il biglietto è caro Però dai Si viaggia bene Cioè ho speso Ho speso Un sacco Ho speso Per un introito Totale di 437 euro 5 stelle Abbiamo un bonus Di 1092 euro Buono Ah il problema è che qua Le monete si fanno Veramente Veramente Troppo Lentamente Abbiamo solo 14.000 euro E una città Ne costa 40.000 Almeno Va bene Ragazzi Quindi fatemi sapere Nei commenti Se volete Altri episodi Di questo gioco Ovviamente Lasciate un bel like Vi ricordo che potete Seguirmi anche sulla pagina Facebook Tutti i trissimi Tutti i dati Soglie Di cui trovate il link In descrizione Iscrivetevi al canale E per oggi è tutto Al prossimo video Oggi ritorniamo Su Talking Tom Hero Dash Allora Iniziamo subito A prenderci queste casse Perché vorrei completare Un costume Ancora è da tanto Che non completo costume Qua Ok 5 Perfetto Abbiamo Allora Allora Allora